Dirigente, l'anno scolastico inizia sia a Ballabio che a Premana. Sono ben felice di avere questa opportunità per dedicare ai nostri alunni, alle famiglie, ai docenti e all'amministrazione comunale di Ballabio e Premana, che so che sono attenti e sensibili a problematiche educative, didattiche e gestionali. Sono certo che avrò l'opportunità di collaborare attivamente con tutti e a tutti loro voglio dedicare un ottimo augurio di buon anno scolastico e di buon lavoro. Spero di avere l'opportunità più presto di incontrare le famiglie e in modo particolare gli assessori all'istruzione e i sindaci, di modo che potremo darvi ottimamente all'anno scolastico e predisporre un piano di diritto allo studio che sia il più proficco possibile per i nostri alunni. Buon anno a tutti e arrivederci a presto. Grazie.